Tutto bene, bravo, bravissimo, abbiamo finito. È perfettamente riuscito l'intervento di riparazione della valvola mitrale con tecnica mini-invasiva su un paziente di 58 anni, eseguito dall'equip del professore Umberto Benedetto, direttore del polo cardiochirurgico dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti. Insieme al collega Diego Martelli siamo entrati in sala operatoria. Al policlinico del capoluogo teatino attualmente tutti i pazienti vengono operati con tecniche mini-invasive di avanguardia non solo limitate alla patologia della valvola mitrale aortica ma anche al bypass coronarico e alla chirurgia della orta. Queste nuove tecniche permettono di ottenere risultati eccellenti. Sono già più di 100 i pazienti trattati e non a caso l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ha inserito il Santissima Annunziata tra gli 11 centri di eccellenza italiani sulla base di indicatori di qualità stabiliti dal decreto ministeriale 70. L'ospedale di Pescara risulta invece tra i migliori per l'oncologia chirurgica su 1.400 presidi considerati si è collocato al ventunesimo posto. Il dato è particolarmente significativo se riferito all'area del centro-sud Italia nella quale Pescara si attesta in prima posizione. Sull'intervento di riparazione della valvola mitrale con tecnica mini-invasiva ascoltiamo il professore Umberto Benedetto e Carmine Ricci che lo scorso 28 marzo si è sottoposto a Chieti a un analogo intervento. Come avete ottenuto questi risultati? Il lavoro di equip è stata la carta vincente e intendo tutti i cardi-chirurghi che lavorano qui a Chieti, il personale infermieristico, gli anestesisti e i cardiologi comprese le cardiologie di Pescara come la cardiologia del dottor Stefano Guarracini alla clinica Pierangeli e la cardiologia dell'ospedale civile. Quando è necessario eseguire l'intervento di riparazione mitralica? La valvola mitralica è una delle valvole più importanti del cuore e si presenta come un paracadute. Quando una delle cordicine di questo paracadute si rompe, il sangue rigurgita in senso opposto affaticando il cuore e questo di conseguenza causa affanno al paziente. La chirurgia si propone proprio di riparare queste cordicine in modo tale da ripristinare la funzionalità della valvola e sollevare il paziente da questi disturbi. Il futuro della chirurgia è all'insegna della ultra-mininvasività. In cosa consiste la tecnica da lei eseguita? Fino a pochi anni fa per eseguire un intervento sulle valvole e sulla valvola mitralica era necessario fare un taglio sul torace e aprire lo sterno. Chiaramente questo comporta dolore, ritardo nella ripresa oltre che a un pregiudizio estetico. Oggi eseguiamo questi interventi con delle piccolissime incisioni sotto l'ascella che permettono un recupero funzionale immediato e chiaramente hanno un beneficio estetico. Quanto veloce è stata la sua ripresa? Dopo due giorni già camminavo autonomamente in riparto e dopo cinque o sei giorni sono tornato a casa e al lavoro senza alcuna limitazione. Al mare nessuno se ne è accorto che sono stato operato perché non si evidenzia, non si vede nessuna cicatrice. Con il cuore nuovo ringrazio tutti per la loro gentilezza e professionalità.